Poi, quando lui scenderà in quella buca lì, tu stai di qua e gliela fai perché lui va su tre ruote così. Lo fermiamo, vai oltre, che quando lui esce si alza così. Adesso lo stiamo ancora per volta. Adesso quando salta su fai. Adesso quando salta su fai. Adesso c'è spazio. Adesso è un po' lungo, che si vede. Io sto già sull'ariette da solo, però... ... 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